Musica Consiglio, un anno di lavoro intenso per dare risposte ai toscani, tutti i numeri dei primi 12 mesi della nuova legislatura dell'Assemblea. Musica Fiscalità di vantaggio per le aree interne, sia alla risoluzione, approvato all'unanimità in aula, l'atto promosso dalla commissione presieduta da Marco Nicolai del PD. Turismo, a Firenze il congresso della Federazione Italiana Escursionismo, intanto presentato l'Atlante Digitale dei Sentieri d'Europa. Consiglio, un anno di lavoro intenso per dare risposte ai toscani. Un primo anno di lavoro intenso nel periodo difficile della pandemia, quello dell'Assemblea legislativa toscana, che è stato illustrato dal presidente Antonio Mazzeo, dai vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci e dai presidenti di commissione durante una conferenza stampa. L'incontro è stata anche l'occasione per presentare il nuovo portale di comunicazione digitale al servizio dei cittadini in consiglio.it. Nei primi 12 mesi di legislatura gli impegni non sono mancati, 54 le sedute dell'Assemblea dal mese di ottobre 2020 all'ottobre 2021, con un tasso medio di presenza dei consiglieri del 96%. Tra gli atti trattati, 72 le proposte di legge, 131 proposte di deliberazione, 414 mozioni, 115 risoluzioni e 171 ordini del giorno. Abbiamo cercato di lavorare insieme per dare risposte, le migliori ai cittadini della Toscana. A volte forse non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto davvero sulle questioni principali, cercando di ascoltare tutte le voci, anche quelle più critiche, con un unico obiettivo, fare in modo che i cittadini potessero uscire velocemente da questa terribile pandemia. Ora abbiamo il compito di rilanciare, cercando da subito di fare in modo che questa diventi davvero e fino in fondo la casa di tutti i toscani. Abbiamo investito tanto su un processo di apertura, di partecipazione, attraverso strumenti di digitalizzazione più evoluti. Io voglio ringraziare anche gli uffici che in questi mesi di lavoro, anche a distanza, ci hanno supportato nel trovare le soluzioni migliori. Da ora ci sarà un nuovo sito, inconsiglio.it, in cui sarà possibile eseguire attraverso strumenti evoluti l'iter delle nostre leggi, prendere pareri, sollecitazioni che arrivano dai cittadini. Tante le questioni a cui è stata data risposta, dalla nuova legge, la prima e unica al momento in Italia, che garantisce più salute e sicurezza a riders e operatori delle piattaforme digitali, alle iniziative per gli studenti. Dal focus costante sull'avanzamento della campagna vaccinale, attraverso audizioni continue in commissione, alla campagna Toscana Plastic Free, per la diffusione di buone pratiche per la riduzione e riciclo della plastica nell'ambiente. E poi la cultura, con le celebrazioni per i 700 anni, dalla morte di Dante, fino alla digitalizzazione di tutti gli atti prodotti dall'Assemblea Legislativa Regionale, per consentire ai cittadini di informarsi e di controllare in tempo reale l'iter di ogni processo legislativo. Un bilancio di un anno importante, va dato merito all'attività dei colleghi, in particolar modo del Presidente e di tutti i gruppi consigliari, che non ha mai interrotto la propria attività. Era un esempio, un dovere che dovevamo, un anno difficile, quello della pandemia, che terminava e che doveva rilanciare questa azione di contrasto alla pandemia. Nel frattempo non poteva interrompersi l'attività di sostegno e supporto al lavoro della nostra Giunta regionale, iniziative legislative. Credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consigliari. Quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita, fondamentalmente di collaborazione, nel distingo dei ruoli. Quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti. Penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione, l'importanza e il sostegno al nostro Presidente. Nel contempo un anno che ha visto iniziare degli itali legislativi importanti e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra, che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. Un anno particolare che è stato segnato dalla pandemia e quindi con delle modalità particolari di svolgimento dei lavori. Quello che anche nell'ultimo ufficio di Presidenza ho spiegato trovando una sensibilità per l'altro comune è quello che si svolga sempre più in presenza il lavoro. Questo è fondamentale con tutte le norme che devono essere osservate. Questi sono segnali importanti, di ritorno un po' alla normalità quale tutti noi auspichiamo. Di certo c'è stato un tentativo continuo di parlarci, di confronto, per rendere sempre più trasparente, aperta, diciamo questa che è praticamente il cuore della regione toscana, per far sì che i cittadini toscani possano essere finalmente, debitamente informati di le nostre attività. Quella digitalizzazione, quella trasparenza necessaria per far sì che tutto si svolga veramente in modo chiaro. Questo è l'auspicio che vogliamo noi, quello di poter continuare a fare anche pagine come quella della consegna, della Costituzione ai ragazzi, la Costituzione repubblicana va letta, va conosciuta partendo dalle scuole. Abbiamo fatto dei momenti importanti di condivisione. Auspichiamo che vi sia sempre più il lavoro anche per salvaguardare pienamente i diritti delle opposizioni e questo è fondamentale proprio perché tutto si deve svolgere secondo quello che è la nostra tradizione repubblicana e democratica. Una fiscalità di vantaggio per le aree interne Attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne con l'obiettivo di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. Questa è l'intenzione della proposta di risoluzione presentata dalla Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, presieduta da Marco Nicolai del PD e votata all'unanimità dall'Aula. Noi abbiamo chiesto come Commissione e lo abbiamo fatto all'unanimità su mia proposta ieri e oggi approvata in Consiglio regionale che all'interno della riforma del fisco del nostro Paese il Governo introduca fiscalità di vantaggio per le aree interne e montane. Noi sappiamo che chi apre un ristorante o un'attività in un territorio montano deve sostenere molti più costi ma paga le stesse tasse di un'attività nel centro, di un centro città. C'è uno svantaggio competitivo e deve essere però anche noi la consapevolezza che queste attività hanno anche un valore sociale importante. È una richiesta questa che noi vogliamo fare al Governo assieme alle altre regioni, però ora è arrivato il momento, è arrivato il momento che le aree interne appunto vengano fatte oggetto di un intervento che ne contrasterebbe sicuramente lo spopolamento. Noi parliamo spesso dei servizi ma i servizi si garantiscono solo se c'è non spopolamento ma se c'è presenza delle persone su un territorio e quindi creare le condizioni anche dal punto di vista fiscale per sostenere le attività produttive noi ci dicono non solo gli esperti ma anche gli amministratori locali è essenziale. Da oggi inizia la battaglia della Toscana per chiedere in sede nazionale di introdurre questo principio che c'è in alcune regioni a statuto speciale, ad esempio Sicilia e altre regioni del nord Italia, deve essere esteso anche alle regioni a statuto ordinario del nostro Paese. La fiscalità di vantaggio consiste nell'insieme delle disposizioni tributarie studiate per fornire incentivi a particolari aree geografiche di uno Stato o a settori sociali e imprenditoriali per favorirne lo sviluppo. Il Governo nazionale ha approvato un disegno di legge delega il 5 ottobre scorso per la revisione del sistema fiscale. Il riequilibrio territoriale tra aree interne e centrali è tra le priorità dell'azione di governo della Toscana. Una fiscalità di vantaggio per le aree interne, insulari e comuni di montagna risulta dunque opportuna, si legge nella risoluzione, al fine di attrarre e far rimanere nei territori imprese e cittadini. È sicuramente un passaggio in avanti nei confronti delle aree interne che sono penalizzate per una serie di motivi infrastrutturali, di servizi, di beni di prima necessità che da sempre hanno le aree interne ma non solo, anche le isole hanno. La Commissione Aree Interne cerca di mettere il focus su questo come abbiamo fatto nella scorsa legislatura con la Commissione Costa perché si può dire che la Toscana è ovunque bella, un slogan coniato nella precedente legislatura, ma deve essere anche ovunque vivibile perché i toscani vogliono continuare a abitare interamente la loro regione ma devono essere messi in condizione di farlo. Questo banalmente può essere scoraggiato da un'infrastruttura, una strada mancante o disagevole oppure la mancanza di un presidio sanitario territoriale, anche ad esempio per la pediatria che scoraggia spesso molte famiglie ed è una causa che mi sono presa particolarmente a cuore anche per la zona di Volterra ma anche molte altre, Pitigliano, San Marcello, Pistoiese proprio perché non esistono cittadini toscani di serie A e di serie B e questo vale per tutti. È un atto importante, le aree interne sono quelle che in questo momento più di altre stanno soffrendo quindi bene il lavoro fatto dalla Commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori, molte volte periferici, non solo montani ma anche collinari ma lontani dalle grandi città che più di altri faticano a trovare livelli di competitività. C'è un atto, ed è evidente dai dati che abbiamo in mano, di spopolamento oggettivo delle periferie urbane, non quelle collegate alle città ma delle realtà rurali che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori. Andandoci a vivere, quei territori hanno bisogno di servizi nuovi e aggiuntivi. Se non ci sarà questa inversione di tendenza è evidente che la Toscana viaggerà a due velocità, quindi siamo a favore di questa misura. Il percorso è stato affrontato da tutti i commissari, siamo arrivati a questa proposta unanime votata in Consiglio regionale da tutte le forze politiche. Gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone, nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali, in particolare in montagna le attività che riguardano i lavori nel bosco perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere, lavorare, studiare, a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti, bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio, nel senso che queste attività devono pagare meno rispetto a quelle che si trovano nelle altre zone della Toscana perché i toscani devono essere tutti di serie A. La risoluzione impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo in prospettiva del Parlamento per fare in modo che siano inserite specifiche agevolazioni fiscali nella complessiva riorganizzazione del fisco. La cosiddetta fiscalità di vantaggio per le aree interne, insulari e i comuni di montagna, appunto, con l'obiettivo di combattere fenomeni di spopolamento e favorire l'insediamento di imprese. La strada giusta, sinceramente, la montagna ha partorito il topolino, nel senso che quella proposta di risoluzione invita il Parlamento a pensare a sgravi fiscali per le aree interne. Io penso che un organo legislativo, qual è il Consiglio regionale, avrebbe potuto fare molto di più, soprattutto impegnare se stesso a fare delle iniziative in quel senso. pensiamo, per esempio, a una tassa di ambito regionale, il bollo auto, il bollo per i mezzi di trasporto. Se avessimo immaginato di sospendere il pagamento del bollo auto per tutti quei mezzi commerciali delle partite IVA che hanno sede legale nelle aree interne, avremmo fatto una cosa sensata e con un'efficacia diretta. Invece così si è invitato a qualche di un altro a fare qualche cos'altro. È il solito giochino del rimandare la palla in calcio d'angolo. Sicuramente è la strada giusta, sicuramente la regione può intervenire direttamente per anche agevolare la pressione, abbassare la pressione fiscale sulle imprese e su coloro che continuano a fare attività nell'area interna e con iniziative proprie, non chiedendo di fare agli altri. In Commissione Area Interna i Fratelli d'Italia hanno lavorato a modificare questo testo che chiede in sostanza al Governo e al Parlamento di prevedere una fiscalità di vantaggio per le nostre aree interne, che come sapete non sono poche. Non ci siamo però accontentati di un testo generico, l'ennesimo testo generico, perché l'impegno che chiediamo è chiaramente anche quello di Regione Toscana nei confronti diretti delle aree interne. Di fatto la fiscalità è un punto essenziale, per questo la proposta di risoluzione arriva all'unanimità in Consiglio, ma il Fratelli d'Italia nel prossimo è seduto e presenterà lo specifico su cui bisogna lavorare, quindi recupero del patrimonio edilizio, la mobilità e la sanità, cioè quei servizi sulle quali è indispensabile poter sigillare non lo spopolamento delle aree montane ma risorgere delle loro comunità. Federazione Italiana Escursionismo, tra congresso nazionale e app digitale dei cammini. Salute e benessere, scoperta e sviluppo, opportunità di crescita senza mai dimenticare il bagaglio identitario che ci contraddistingue. Sono questi temi che il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha ricordato presentando l'Atlante Digitale dei Sentieri d'Europa, un progetto pilota che vede protagonista la FIE, Federazione Italiana Escursionismo, impegnata al 23 e 24 ottobre prossimi nel suo secondo congresso che si terrà a Firenze. L'iniziativa del congresso è una necessità perché i tempi sono cambiati rispetto agli anni della fondazione, della federazione, per cui c'è stata un'evoluzione, un'evoluzione di carattere sociale che ha fatto ritenere alla dirigenza della nostra federazione di doversi misurare con i tempi, quindi quale opportunità migliore è quella di raccogliere l'opinione totale della nostra base. Per noi è un grande onore ospitare qui a Firenze il congresso nazionale che è il secondo dopo il primo che ha segnato la rifondazione. È un momento dopo la pandemia di rinnovamento, cioè sono stati fatti dei tavoli che hanno lavorato per un anno e mezzo e che stanno definendo quello che sarà il programma per i prossimi cinque anni della federazione italiana escursionismo. È un po' come un'azienda che fa il business plan per il futuro e periodicamente verifica dove siamo arrivati e altro. In Toscana il movimento è molto forte, abbiamo 37 associazioni e pensiamo con alcune discipline tipo la marcia acquatica e altro coinvolgere tutte quelle associazioni di volontariato che hanno a che fare con il mare, circoli nautici, eccetera. Speriamo bene. L'Atlante Digitale dei Sentieri d'Europa, che consente attraverso un'app di percorrere in sicurezza e con la disponibilità massima di informazioni la rete dei cammini, è un progetto pilota messo a punto in Toscana e che vede protagonista in questa fase la Federazione Italiana Escursionismo. L'applicazione mette a disposizione dei camminatori le informazioni logistiche e tecniche, oltre alle descrizioni delle tappe con particolare attenzione alle emergenze storiche e culturali che si incontrano sul cammino. Funziona gratuitamente ed è scaricabile su smartphone che, se dotato di GPS, può essere utilizzato come un vero e proprio navigatore. Per noi è importantissimo perché, specialmente dopo il periodo che abbiamo vissuto, c'è stato un recupero, un ritorno, un'attenzione alle nostre montagne, ai nostri percorsi e anche la rete escursionistica europea di cui parlereanno in questo congresso. Per noi vuol dire sviluppo economico, vuol dire pil, vuol dire turismo, ma vuol dire anche salute. Quindi è un tema che coniuga tanti aspetti e soprattutto tante associazioni in rete che esistono da tantissimi anni e che fanno quell'azione sociale che ci permette di far scoprire le nostre bellezze. Quindi è sicuramente un motore turistico, ma è anche qualcosa che parla di benessere e che parla di un recupero di una parte della nostra Toscana che spesso è nascosta e quindi loro ci aiutano proprio a scoprire le bellezze della nostra regione.